I crotonesi hanno vissuto la processione da Crotone a Capocolonna al seguito del quatricello della Vergine Nera con grande emozione. Dopo due anni di fermo il ritorno al pellegrinaggio è sicuramente motivo di intensa gioia perché non c'è una festa come quella per la Madonna Regina di Capocolonna che coinvolge i crotonesi non solo in città ma anche in altre regioni e paesi europei che rientrano nella nostra bella Crotone in occasione di questa festività mariana. Un popolo senza passato non ha futuro e di generazione in generazione il testimone di fede e di devozione nei confronti di Maria, Madre di Dio e Madre Nostra, continua a radicare la fede cristiana e la consapevolezza di essere tutti figli della Madre Celeste. Un pellegrinaggio di preghiera, di recupero di quel rapporto che ci permette di sentirci amati, di dover amare la Vergine Nera, Maria che con il suo sì a Dio ha aperto le porte della salvezza alle nostre anime. Un pellegrinaggio che ha visto già come vuole la nostra tradizione fuori dalla cattedrale una folla di cittadini che dopo aver fatto visita all'interno della chiesa alla grande effigia della Madonna si sono preparati ad accoglierla e a seguirla proprio come testimonianza di questa fede mariana, di questa devozione verso colei che con umiltà ha fatto la volontà di Dio Padre. La preghiera non è mancata e dunque la processione partita dalla cattedrale ha coinvolto un'intera città che anche lungo il percorso ha voluto salutare Maria, regina di Capocolonna. Per noi crotonesi la devozione mariana è l'identità del popolo e l'identità irrinunciabile è quel sentimento d'amore che semina speranza nei nostri cuori. Come diceva Monsignor Agostino, il pellegrinaggio, la notte verso il giorno è il seme della speranza che risveglia in noi la forza di vivere ogni giorno, affidandosi a colei che in silenzio ha vissuto la maternità, la nascita dell'unico figlio con gioia ma come serva di Dio e poi sempre con lo stesso desiderio di fare la volontà del Padre Celeste ha accettato il dolore, la sofferenza per la crocifissione di Gesù. Una testimonianza che ci insegna cos'è la fede e in particolare come vivere la nostra vita tra gioia e dolori. E viva Maria, un grido, una preghiera, un sentimento d'amore che ci unisce tutti in un unico popolo, il popolo di Maria di Capocolonna.